buongiorno e benvenuti in questo nuovo video un vlog dal sapore delle cose veramente molto molto semplici allora oggi vi faccio vedere un metodo pazzesco per risparmiare 10 mila e 100 euro in poco tempo io sono una persona con moltissime passioni una delle mie passioni è il make up e chi è appassionato di make up sa quanto accidenti costi perché quando vai da sepora obiettivamente arrivi alla cassa e ti prende un infarto e anche più di uno in generale mi piace frequentare corsi di formazione e i corsi di formazione hanno sempre costi elevati perché sono quei corsi tramite i quali acquisisci informazioni o recentemente ne ho frequentato uno sul social media marketing per esempio per curiosità non perché ne voglio fare una professione perché io il mio lavoro ce l'ho già mi piace istruirmi mi piace molto studiare io non sono laureata non ho finito l'università tuttavia non ho mai smesso di studiare nella vita sono molto appassionata e curiosa tutto questo ha un costo ed è un costo non indifferente fosse per me non metterei da parte nulla di quello che guadagno sono nata con le mani un po bucate in contemporanea so quanto sia importante costruirsi una buona base economica per svilupparsi come persone sia che siate improntati all'avvio di altre attività come magari un po lo sono io ho sempre detto di voler fare il mestiere che faccio ora è di voler fare anche altro il mio sogno un po imprenditoria l'idea di avviare più attività buona base economica importante sia per chi ha concetto simi al mio sia per chi vuole avere un futuro poi tranquillo inizialmente avevo delle difficoltà a risparmiare poi ho trovato un metodo che per me funziona benissimo e posso dire che se funziona su di me che sono veramente una gran spendacciona funziona su tutti voi io ho un metodo che una volta provato non torni indietro tutto quello che vi occorre semplicemente una scatola come questa che vi piaccia e 100 buste da lettera potete anche costruirvi da sole le bustine come ho fatto io tranquillamente in casa senza neanche bisogno di uscire a comprare di quello che mi serve perché sono cose talmente basilari allora la scatola che ho scelto io è questa ognuna delle buste contenute in questa scatola ha un importo scritto sopra vi lascio in info box il link dal quale potrete scaricare questa scaletta potete anche disegnarla voi se non avete una stampante e il piano di risparmio che noi andremo a seguire sono disegnate 100 buste e ognuna di queste buste porta sotto scritto un importo gli importi aumentano di 2 euro in 2 euro quindi 2, 4, 6, 8 fino ad arrivare a un massimo di 200 quello che voi dovete fare quando avete dei risparmi che vi avanzano in più è andare a prendere una bustina quella sulla quale c'è scritto l'importo dei risparmi che vi sono avanzati inserire il denaro all'interno sigillare la bustina e poi andare a colorare la bustina della scaletta in corrispondenza dell'importo che abbiamo appunto messo da parte una volta che avremo ultimato tutta la scaletta avremo risparmiato ben 10.100 euro personalmente questo metodo tanto semplice quanto efficace su di me funziona benissimo perché mi pone degli obiettivi infatti se prima non focalizzavo bene le mie finanze, le mie idee su obiettivi a lungo termine ora è molto più semplice perché il mio obiettivo principale al momento è quello di riempire un'altra volta tutte le bustine di modo da poter fare diverse cose, diversi progetti che ho in mente di sviluppare nell'arco dei prossimi anni il primo tra questi è sicuramente l'accademia di make up l'ho già scelta, l'ho scelta, basta è da quando frequento le scuole superiori che tutte le persone mi dicono di fare questa cosa perché secondo loro ho un'attitudine particolare all'inizio lo credevo anch'io quando ero molto piccola verso i 14-15 anni poi crescendo e vedendo comunque altre ragazze molto brave sui social non mi sono sentita più così speciale, pensavo di non avere poi tutto quel talento effettivamente il social è un po' una vedatura c'è sicuramente un po' di editing sulle foto e poi anche perché magari quelle ragazze così brave sono ragazze che si sono date la possibilità di studiare cosa che io con me stessa ancora non ho fatto ho sempre un po' paura a parlare dei miei progetti perché dicono di non parlarne mai ad alta voce di non dire mai prima del tempo quando tieni a qualcosa perché quelle cose vanno a rovinarsi io però sostanzialmente penso che tanto il destino ha una strada instabilita per tutti noi quindi se non è destino che io faccia l'accademia non sarà parlarvi del mio sogno a cambiare le cose o non era destino o succede qualcosa che me lo impiedisce perché alla fine la vita è anche imprevisto e quindi ci sta però l'idea appunto è quella di frequentarla per passione è molto strano perché ripenso quando andavo all'università a quanto a me non si è mai pesato lo studio più di tanto non l'ho mai vissuto come una costrizione anche perché quello che non mi piaceva tipo la matematica io non la studiavo andavo male in quelle materie infatti c'era questa disparità pazzesca tra magari la fisica, la matematica dove avevo tipo 5, 4 e le materie che invece mi appassionavano come la storia, come letteratura dove avevo 10 prendevo le voti che i professori non davano dicevano proprio di non arrivare al 10 ma a volte si sentivano costretti a darmelo io penso sempre alla passione e al fatto che quando andavo all'università avevo molta ansia verso il futuro e sono sicura al 100% che in primis il fatto che per me non fosse un periodo facile perché stavo attraversando diverse crisi personali piuttosto consistenti in secondo luogo l'ansia che avevo nei confronti di che ne sarà di me del futuro, il tempo corre veloce, oddio non sono stata abbastanza forte da sbocciare come persona da darmi degli obiettivi da seguirli ero in valia degli eventi non ero padrona di me stessa sostanzialmente e questo mi ha limitato però penso che alla fine il mio percorso è stato questo per un motivo sono dovuta passare da questa strada per apprendere più cose di me determinati periodi sinceramente importanti che io ho vissuto mi sono serviti ad arrivare fin qui e forse probabilmente mi serviranno ad arrivare oltre spero di riuscire a raggiungere questo obiettivo c'è sempre il caso, la variante del caso che un po' mi spaventa ma spero che mi assista un po' sono molto emozionata ma nelle prossime settimane barra mesi mi riccherò proprio di persona all'accademia a fermare il mio posto se sentite un rumorino sottofondo è la pioggia sta piovendo e come sapete io sono condannata alle camerette manzartate forse non sono riuscita a far vedere granché in questo video però mi ero ripromessa di pubblicare comunque anche solo per farvi un salutino anche solo per nutrire il mio canale di quella che è la mia essenza niente, adesso come vedete non sono proprio al top perché comunque sono un pochettino stanca e tutto però sarà il mio papà, ci vuole portare tutti a mangiare una pizzeria buonissima napoletana che c'è in provincia di Torino mi fanno delle frappe alla Nutella che sono la fine del mondo e quindi sicuramente mi devo aggiustare quindi magari lo facciamo insieme i miei capelli non sono al massimo dovrei lavarli però sto cercando di aspettare almeno un giorno in più perché li lavo troppo spesso e ho paura di ingrassarli un po' quindi si sporcano molto meno rispetto a prima sto usando anche dei prodotti molto buoni della Olaplex e mi ci trovo bene, magari ve ne parlerò nel prossimo video proviamo a prepararci e a diventare un minimo decenti per stasera i capelli ve li risparmio, tanto ve li ho già fatti vedere nello scorso video dunque ho sistemato i capelli e sono andata a realizzare la base non sto qua a dirvi come ho fatto, vi rimando al video che vi lascio qua da qualche parte e adesso vado a realizzare un trucco occhi veramente molto semplice infatti userò soltanto questa palettina che vi avevo già fatto vedere nel Get Ready With Me vado a prendere questo colore qua e lo applico su tutta la palpebra mobile perché ho notato che questa polvere, questo illuminante che non è un illuminante brillantinato ma opaco va a illuminare molto la palpebra mobile più di un ombretto nude poi quello che io faccio è un trucchetto che ho imparato da TikTok ovvero prendo un pennello per sfumatura e la mia terra abbronzante con cui sono andata a definire le ombre del viso e quello che faccio è prendere un po' di terra e andare a creare l'angolo e l'ombra dell'occhio vado con la terra abbronzante perché non ha l'impatto forte che avrebbe un ombretto marrone è molto molto delicata e crea una profondità all'occhio, un'ombra che risulta molto naturale dopodiché quello che faccio è andare a prendere l'illuminante quello che applico sugli zigomi e sulla punta del naso io utilizzo sempre lo stesso pennellino perché sono in ritardo ma in realtà non si dovrebbe fare, fate finta di niente e vado ad applicarlo all'inizio dell'occhio in questo modo e sotto è una cosa che ho notato mi illumina veramente molto 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 lo sguardo e poi quando applichiamo l'eyeliner fa un contrasto stupendo adesso applico l'eyeliner vado ad applicare questo qua in penna della NYX definisco sempre un tratto molto deciso già dobbiamo andare op, ce l'ho, sono in ritardo faccio veloce veloce sono in ritardo adesso grazie, è tuo applico il mascara mia madre rubato i prodotti rubati la famiglia sono sempre i migliori smettila di guardarmi sono in ritardo sempre in ritardo nella vita quando arrivo arrivo col botto e poi sulle labbra l'ultimo step così posso andare mia madre la smetto di guardarmi male vado ad applicare questa tinta labbra qua è finita è finita di Kylie che me l'ha arrivata mia madre a Natale quindi è stata così è fantastica l'amo, infatti l'ho finita praticamente la matita è diventata piccola così adoro super promossa questa linea ok e questo è il risultato finale adesso se faccio in tempo vi faccio vedere un attimino veloce veloce come sono vestita e poi andiamo allora ho messo questi stivaletti della buffalo che mi piacciono un sacco e sono comodissimi e praticamente li ho abbinati a questo pantalone della tuta della Nike e questa magliettina molto colorata e molto leggerina che ho preso su Zalando intero l'outfit è così mi piace un sacco perché è sportivo molto comodo ma siccome in questi giorni piove e fa abbastanza freddo sono andata ad abbinare questo giacchettino scamosciato nero e niente questo è il mio outfit per questa serata vi ringrazio tanto per essere rimaste con me per avermi fatto compagnia in questa giornata e anche per i bellissimi commenti che mi lasciate ci vediamo presto con un nuovo video vi ringrazio grazie a tutti